Festeggiamenti, baci e abbracci a Natale. Non è possibile. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a causa dell'emergenza da coronavirus invita tutti gli italiani a passare le festività natalizie in maniera sobria per cercare di contenere la curva del contagio. Al di là delle valutazioni scientifiche, occorre buonsenso, continua il Premier, una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva in termini di decessi e stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Le anticipazioni sull'eliminazione del coprifuoco e aperture serali dei ristoranti, seppur rappresentino la possibilità di far respirare i commercianti, non vanno giù ad alcuni ministri come Speranza e Boccia. Il senso è quello di evitare una terza ondata o di perdurare quella in atto. Nel frattempo si avvicina il termine del DPCM che prevede le restrizioni nelle zone rosse, arancioni e gialle. L'Italia resta in attesa di nuove direttive e spera di poter recuperare lavoro e serenità.